il papà è a casa all'improvviso suonano alla porta è il bambino che gli dice papà papà è successa una cosa terribile oddio che disgrazia che succede bimbo mio dimmi tutto ero in macchina con la mamma e nel fare manovra per il parcheggio è finita in mezzo alla strada ed è arrivato da dietro uno che l'ha presa in pieno una botta terribile vedessi come è ridotta adesso no oddio che disgrazia non mi dire così non ci voleva all'amore della mia vita il mio unico e grande amore da tanti anni che siamo inseparabili speriamo che non sia tutto questo disastro e la mamma come sta papà dicevo della mamma